Ecco, possiamo ripartire ancora. Allora mamma? Cosa vogliamo raccontare? Ah, inizia tu. Ah, di tu? Inizia, inizia. Allora che cosa... proprio inizio io? Che cosa racconto? Racconto quando è venuta la mamma? Eh? E quando è venuta la mamma era venuta la nonna poi. La nonna era venuta in Italia a ottobre del 1978, giusto? Settembre. Settembre, per stare qui un anno. Un anno, ha girato molto, è andato a trovare tutte le sue amicizie, solo che ci siamo conosciuti noi. E dopo, niente, siamo andati, siamo stati insieme. E dopo lei è tornata a casa, ad agosto dell'anno dopo è tornata a casa. Poi, quando era stata dopo a novembre, il 4 di novembre è tornata per vivere in Italia. Ah, vedo che... ti racconti molto. Eh? L'ho raccontato ieri, persino. La nonna è molto, molto dialogo, infatti non vuole raccontare niente, va bene, allora chiudiamo. Ma è bene, ciao. Ti saluto, ciao, ciao. Se ne è venuta in mente qualcosa, no? Ti saluto, ciao.